Ultimo! Sono qui per il Pancrazio. Mi prendi in giro? L'unico lottatore che manca è Testicle. È leggermente sotto acqua... sotto pressione. Prenderò io il suo posto. Va bene, va bene. Risparmiati per l'anno. È una cosa senza precedenti, ma la folla si infurierà se il Pancrazio viene annullato. Va bene, l'incontro inizierà tra poco. È ora di andare. Benvenuti! È con grande piacere che vi presento... Kallia! Un tempo campione in questo stadio. E ora... Uno stimato giudice... Di Olimpia! Amici miei, è davvero un onore presentare quest'evento a me così caro. Il Pancrazio! Ma non vi tedierò con le parole, poiché siamo tutti qui per l'azione! Per Zeus! Che la competizione abbia inizio! Ti schiaccerò come un inzetto! Non è giusto! Fa male! Dov'è finita la tua odacia ora? Una passeggiata! Un incontro di cui parleremo per molto tempo. Ti prego! Quello era il migliore! Era solo l'inizio! Cosa? Ora che il nostro spidante si è scaldato, vediamo come se la cava contro Erasto! Buona fortuna! Non chiudere gli occhi o vedrai le stelle! Senza! Ce l'hai in pugno! Ciò! Questo è lo spirito! Che lentezza! Sta fermo e fatti colpire! Lo scorpione punge, eh! Il pubblico ti adora! Ma non hai ancora vinto! Non ancora! Una bella offerta agli dèi! Non credi? Torneremo presto! Con l'ultimo scontro! Con l'ultimo scontro! Il possente! Alexios! Contro il campione in carica! Dorieo! Nooo! No! 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 fantastico potrei essere il socio di un campione olimpico lotti persino meglio di me se solo socrate fosse un partner più disponibile alcibiade stai bene ero con i miei amici demofane e callia niente meno che dei rispettati giudici olimpici troppo vino scadente sembri uno che ha bevuto dalla coppa di medea la coppa di medea pensi che sia stato avvelenato stavi festeggiando siamo alle olimpiadi perché non festeggiare eravamo a leoni dion se sei stato avvelenato devo trovare quei giudici avvelenato credi che anche loro no è impossibile sono brave persone non puoi pensare che uno di loro organizzano sempre una festa durante le olimpiadi per celebrare la sacra tregua resta con lui scoprirò cosa è successo dammi un ramo d'olivo e io mi prenderò l'oliveto grazie a tutti